E voi che cazzo siete? Demoliamo Squadra Badger 227esimo Vuol dire Il supporto alla squadra di emolizioni E' lo stitano boss Benvenuti a tutti ragazzuoli Qua ciao per un po' e bentornati qui oggi Su questo nuovo video di Call of Duty Advanced Warfare Quindi oggi siamo su Call of Duty Advanced Warfare con la campagna Finalmente il PSN mi è tornato Stavano facendo solo alcuni lavoretti Non so perché Però stiamo parlando di lavoro Quindi mettiamo che è la nostra cuffiette Cuffiette Dico sempre cuffiette Perché sono più grosse di me Però questi sono casi a parte Quindi eccoci qui Nuova storia Sì perché come avevo detto ieri Già stavo registrato Però PSN non ha funzionato Quindi Qui siamo zitti Perché è un luco allaiato E molti di noi scelgono di vivere Senza mai aprirli Seguiamo ciecamente A montare su di lui Avanti Mitchell Non è la fine del mondo Inizio solo ora a farmene una ragione In fondo ce la siamo voluta Beh Mio padre era un marine Quindi non avevo molta scelta Sì Anch'io l'ho fatto per mio padre Perché volevo allontanarmi da lui È impossibile allontanarsi più di così Ok Certo Ascoltate Ecco gli ordini Entreremo dal punto Epsilon Giù pesanti come vi è stato insegnato Conoscete la situazione? Sapete dove andiamo? Ura! Siete pronti? Ura! Si comincia Mitchell Aeros Avanti Andiamoci dentro I nordcoreani invadevano Seul Dovevamo respingerli Non era solo una missione Era un'iniziazione Quindi Si è messo un attimo in pausa Quindi ditemi intanto qua sotto i commenti Se volete che vi taglio Questi pezzi in cui pallano Se no me lo faccio Bajar 0-1 In attesa Non è bello sto gioco Nessà piace il teore Tenetevi forte Si parte Come in addestramento Qui va a finire male Va a finire molto male Oddio Cazzo 30 secondi all'inserimento Curciura Ci vediamo dall'altra parte D'altro mondo Spaceman Fuoco nemico nella nostra traiettoria Inceputo Benger 0-1 In attesa In corso Tenetevi Mitchell Chiudi gli scudi Mi sono guardato Mi sono guardato Mi sono guardato Dai Mitchell Ora Mamma mia Reimposto il punto di lancio Quello il sito Che poco moriva Reggetemi Quindi E' finita la storia No Soprisa Ne immagini Siamo tutti interi Cioè Ci rimanevi Ma poco di merda Quello è male Chi è Mamma mia Ho violenza Accoggiuta Guarda che voglio Ho valuto io Che è stato Scegli Occhie aperti Squadra Ecco Ehi Comunque adesso Lo so Vedrò Quanto Mi piace Stai Ma Troppo bello Ops Mamma mia Oddio Oddio Come si fa Mamma mia Come stava I guardano Che è Sono un pio Mamma mia Tanto Sono Noia Che è Dove Andà Oddio Dove Andà Dove Andà Questa C'è Un cazzo Sede Quello Deve Stai Scendendo Quello è ancora Giù Dai Muere Cazzo Come fare Passare E voi Che cazzo Siete Muere Muere Duecento Ventisettesimo Fudito Mi supporto alla squadra demolizioni 1 Sono già in movimento Mi davamo per spacciati Dove si trovano Due chilometri a Nandonez 775 Ok Andiamo Ciao Maradio Come muove Buongiorno Questo mezzo Mi va Veloce Moite Mamma mia Oddio Che cazzo Mi aspetta Cazzo Che cazzo Sta succede Se mi ammazzano Mi ammazzano A te Che Ti muovono Insieme Mi aspetta Mi aspetta A te Qui Mi aspetta Mi aspetta Mi aspetta Che cazzo Dove sta Che cazzo Che cazzo hai Vabbè, io la muovete. Oddio! Morire, 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 morire. Oddio! Oddio! Come sapevo questa cosa insieme? Oddio! Dai, 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 dai! Mamma mia... Ora un sponsor! EMP carica! Fuoco! 耶 Sono un peso cos'è giusto! Guarda dove sta sta! ma dentro ci stanno i nemici perchè sto pezzo l'ho fatto curato il giorno perchè come avevo detto PSN però non c'ho PSN quindi non mi registri non spero che mi registri non so se non il cazzo oddio io lo so nel suo gioco poi morio non mori però oddio non morite però cazzo no 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 è un momento stealth è un momento stealth è un momento stealth è un momento sotto le cambiature non morio oh però che cazzo ogni 2 secondi ricarica piace quello è mio subito mamma mia io mi sto spavendo ma io mi sto spavendo ma io mi sto spavendo mi sto spavendo è bello lì sopra non c'è sta nessuno RAP CAMPER Gli spavolano Finito? No Gli spavolano Spavolano Cazzo Quindi quando l'arma ha unito questo Assolutamente Aspettare abbiamo questo Questa qui Quindi vai saliamo Saliamo Zuccheriamo Zuccheriamo Ups Qui si è cascato No si è cascato Masse Scusa Ma che è? C'è un salto di due medi Manco Quei navi sono normali Ero Ecco il bersaglio Troviamo quella squadra Oh cazzo Quindi ragazzuoli Non è finito questo episodio Perchè devo per forza bloccare Perchè sennò Si blocca la sola cosa da play Quindi ci vediamo da pochissimo Bella Ciao